Santa Maria delle Mole, attraverso Roberta S. Siete nel vostro cerchio di luce, siete presenti e siete qui perché il vostro essere vuole questo. Le vostre volontà più profonde determinano gli eventi della vostra vita. Tutto ciò che vivete fa parte di quel movimento energetico che voi stessi stabilite per voi. Siete voi a muovere la materia che vi circonda e non subite gli eventi, li create appositamente per voi per far sì che tutto ciò che ancora non conoscete di voi possa emergere e farsi riconoscere. Non abbiate paure dunque e non temete di sbagliare perché ogni vostro passo è solido e ogni vostro passo è volto a portarvi nella direzione scelta da quella parte di voi che ancora non conoscete ma di cui almeno sentite parlare perché siete curiosi e la vostra mente vi aiuta in questo.